aiutare gli altri è una passione progetto assistenza migliora la vita della persona che ami prendendosi cura di lei a casa o in una struttura sanitaria con badanti, operatori qualificati, infermieri e fisioterapisti pronti a dare una mano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 cerca l'agenzia più vicina a te progetto assistenza migliora la vita grazie